Ma che dungeon no, quello è un nido di parsiti va da casa mia È possibile, non lo so, io non ho mai giocato la mod, però Lo sento, sento Porco 2, è allontati Via, no, vai via, vai via, è un blocco infestato Oh Gesù, cosa cazzo c'è? Vale, 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 ascoltami 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 Wake up Sì, ma guarda laggiù Lo vedi? Eh, te l'ho detto prima Beacon, Beacon, Stone Age 3 Mi sta fissando Porca di quella merda Vola, via, vola, via, vola, via, vola, cosa, via, basta, non ne voglio più sapere Basta, basta Ma chi ce l'ha fatto fare di mettere sta moda? Ci stanno eseguendo, ci stanno eseguendo Corri, corri, non ti girare, non ti girare, non ti girare, non ti girare, non ti girare mai più Vale, basta, 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 basta Ce l'abbiamo dietro, ce l'abbiamo dietro Corri, corri, prenda Ho, ho, ho Ho Grazie a tutti